Questa è un'iniziativa che il Comune insieme al Rotary di Trapani-Mozzi ha organizzato in occasione del 111esimo anniversario della fondazione del Rotary. Siamo onorati di ospitare la Presidente e ruotare tutto nel nostro paese e abbiamo messo in ostensione la bandiera nel palazzo municipale e questa mattina insieme alla scuola si pianderà un albero qui nel ladrio della scuola, nel giardinetto della scuola, a significare anche questa cultura del verde ambientale che deve crescere. Allora due sono i messaggi che vorrei lanciare, uno la cultura, siamo qui in mezzo a tanti giovani e allora loro devono sapere che la cosa più importante per il Rotary è la cultura e l'alfabetizzazione. Nel nostro paese non ce n'è bisogno, forse, forse, però se i ragazzi si impegnano di più nella scuola saranno dei leader domani capaci e preparati e poi l'albero viene piantato in senso di amicizia e di amore del verde che deve essere inculcato, mi riferisco sempre ai giovani. Il Rotary, come lo sapete, è un'organizzazione che esiste in tutto il mondo da 111 anni e ci fa piacere festeggiarlo oggi in tutto il mondo, viene issata la bandiera e si fa qualcosa per ricordare. Il Rotary ha contribuito, insieme all'associazione di Bill Gates, a eliminare quasi completamente la poliomilite nel mondo, quindi noi ci occupiamo anche di salute, salute materno-infantile, ci occupiamo anche di portare l'acqua dove non c'è, di portare la luce dove non c'è. Nel nostro territorio dove queste cose ci sono, il Rotary deve far vedere che è presente e dobbiamo stimolare le istituzioni a fare ancora di più. Il Rotary in fondo fa questo, nel nostro piccolo, stimolare le istituzioni. Io che sono medico dico noi facciamo medicina preventiva, informazione, quella è la prima forma della medicina, l'informazione, però non li perdiamo di vista.